Ehi raghi! Ma che cosa? E' colpa sua! E' colpa sua, è stata una sua idea Sposto qui, la ruomiglia Ok, ciao ragazzi! Siamo qui nella cameretta di Robby La riconoscete, però è un mio video Robby in questo momento si sta lavando il sedere Quindi lo faremo noi due Esatto Abbiamo deciso di rispondere alle vostre domande in questi due giorni che ci avete fatto Ci sono proprio venti Aiuto ragazzi, comunque grazie mille per tutte le farci che ti hai facendo Di noi, siamo troppo felici di questo Tutti gli edit che fate sono un sacco belli Noi li guardiamo tutti Cerchiamo di non far sentire Infatti Ok, abbiamo qui tutte le vostre domande Che ansia, che ansia Io insamo con una domanda un po' Ok, vai Fili Fili, puoi più bene a Jenny o a Robby? Ah, la mia peccora No, comunque tutti e due Perché sono delle ragazze fantastiche Credo che sono stati i giorni migliori che ho passato Quindi Confermo, confermo Due Avete mai pensato di andare a vivere insieme? Perché non rispondere io? Rispondi tu un tuo video Allora, praticamente Sì, ci abbiamo pensato Assieme con Vabbè, io Robby Forse settembre Fili E Ciao Stati attenti Ok, l'idea c'è E forse Forse A settembre Farete mai Questo è importante Magliette Libri Cosa del genere Mi chiamo Rami Ciao Rami Ciao Rami Allora, qui ci sarebbero spoiler da fare Ci sono un sacco di progetti sotto Che voi non vedete Tipo Qui vedete qui Qui ci sono i progetti che non potete vedere, ok? E Arriveranno A fine di quest'anno Vi dovete aspettare roba bomba Uscirà una peccora e vi arriverà a casa, ok? È la cosa più bella che ci sia Poi mi chiedono Mi chiedono Questa è la camera di Robby? Sì Sì È proprio rosa Guardate mia maglietta Siamo tutti rosa oggi Oppure Siete in hotel? Sì, stiamo dormendo in hotel Però Robby e Jenny usavano la camera Io nella mia Sì, vediamo qui qualche volta Esatto, finiamo solo per registrare e basta Tutti insieme Allora Tifate l'Italia o altre squadre? Allora, ieri Ieri è stato Top È stato bellissimo Abbiamo fatto anche la storia Mi sa in cui abbiamo esultato per l'ultimo gol È stato veramente fantastico Abbiamo esultato per l'ultimo gol Se non ci seguite su Instagram Ragazzi, che state facendo? Cioè, infatti Io mi chiamo Fili Se non ti leggo Jennifer.putuputo Robby si chiama Robby Poterber Farete mai qualche prodotto Zoo Squad? Più che altro Per ora faremo dei prodotti un po' singoli Tipo Jenny, Robby, Fili Un po' a parte Esatto Però l'idea ci potrebbe stare Sarebbe veramente fio Veramente molto bello Come vi siete conosciuti? Allora Fili, come ti sei conosciuto con Robby? Allora Io con Robby mi sono conosciuto Quattro anni fa In una Mi sa In un contest Di uno youtuber Lui aveva fatto i provini E tipo Robby ha partecipato Ha vinto Pure io ho partecipato E da lì ci siamo conosciuti Io invece ho collaborato con Sbri dal 2019 al 2021 E ho conosciuto nel 2020 Robby Che mi ha fatto conoscere lui Ok Stavo facendo la foto Ok Tutti ci chiedono delle nostre magliette Alza ti fai vedere la tua maglietta Sozzone E questa è la mia maglietta Allora Io farei una maglietta del genere Quanto vi piacerebbe avere una maglietta del genere Del nostro canale? Sarebbe veramente bella Di tutti i nostri canali Sarebbe un sacco Un sacco Un sacco Un sacco bello E il cibo che odiate a morte Ci credono Ci chiedono Ne ho infiniti Sai perché? Non so niente ragazzi L'unica che mangia qui in vacanza sono io Io mangio le solite cose A parte che sono Da due mesi che sono a dieta Con palestra E ora che posso Tra virgolette Mangiare di più Sono molto più Cioè Mangio di tutto Tutte sporcherie Tutto Mangia Mangia solo cavolate Ve lo giuro Patatine Quello Quell'altro Ciao Fallo da solo Ma Jenny e Fili Perché non state insieme? Siete troppo belli Allora Stiamo assieme in amici Ci vogliamo bene E il mio bro Lui vai Siamo i migliori amici E basta Esatto Siamo solo i migliori amici Adesso dobbiamo riflessare Intanto ragazzi Se avete delle domande Fatecele nei commenti Perché noi staremo un'altra settimana Praticamente Ma che è un'altra settimana? Altri cinque giorni No sei Che dici? Oggi mercoledì Sì Siamo altri sei giorni Quindi mi raccomando Nei commenti Trovate Lo spazio Per farci delle domande A cui noi potremmo rispondere Perché stiamo Registrando questi giorni Tu hai registrato? Sì Ho registrato un video in cui Non posso dire Perfetto Sei mai stata bocciata? Io No Io Ciao Voi si è ritirato Infatti non c'è Ma vivete tutti nella stessa casa? No Magari Magari sarebbe stato veramente bello Come mai siete da Robby Perché siamo in vacanza? Sì Semplicemente per questo motivo Infatti abbiamo preso l'hotel Andiamo in piscina Cioè raga la piscina è top È la cosa più bella Infatti Ma poi alla fine Credo che anche a fine luglio Robby verrà in Sardegna Quindi usciranno anche tantissimi altri video Preferite? Ragazza o ragazza Online o in vita reale? Allora Nella mia situazione in cui sono ora Preferirei vita reale Tantissimo Penso che sia ovviamente meglio Per una persona nella vita reale Però O vedersi qualche volta Anche va bene Se poi proprio non Cioè negli altri periodi Va bene anche se In vita reale Sì infatti Poi vabbè Durante la quarantena Non è che potevi vederti Con chi volevi Quindi Questa domanda È carina Una caratteristica che ti piace E una che non ti piace Inizia tu Sei simpatico Ma che Simpatico È carino È stupido Come la pietra Ok tocca a te Allora Una cosa Positiva Quindi un pregio di Jenny E che Un libro gigante No Credo che sia Che è molto matura E che Ne sa Cioè Studiata Ne sa È di difetto È basta Raga Mi arriva qui Ma neanche Sono di vantaggio Facciamo finalmente vedere La nostra altessa Spero l'abbiate capito È il disagio Che abbiamo Ne ho letta una Veramente molto bella Che è Chi puzza di più Oltre a fili Allora Stabiliamo sta cosa Ok Non puzza Vai Allora Mi lavo Tra tutti puzza di più Lui quando studiamo Tutti assieme Ok Però se non studiamo Ci laviamo Comunque Profumiamo per forza Quindi Siamo lavati Dai stiamo profumando Solo oggi però Solo oggi Poi domani Regalami Non ci laviamo più Ci laviamo solo per i video Esatto Quando farete un video Sul canale della Dezoo Prossima domanda Se mi è stata voce No Comunque Lo diciamo Il fatto del canale di Dezoo Ok È veramente molto impegnativo E già non riusciamo a fare Un video al giorno Per tutti i canali I nostri tre Figuriamoci Avere anche i video Nel secondo canale Di noi tre Chissà Più avanti Magari quando abbiamo Già la casa Abbiamo molto più tempo Tutti insieme Lì si possono fare Un sacco di cose Ma evitiamo Sinceramente Perché siamo in vacanza Uno Poi ovviamente Ci paghiamo veramente Troppo ma troppo tempo A fare i video D'Adezoo Esatto Raghi Ci chiedono Se siamo fidanzati Non tra di noi Abbiamo già risposto Infatti Ma se io sono fidanzata Se tu sei fidanzato Sei fidanzato? No Io Beh dai Devo essere onesta Mi sto sentendo Come una persona Non è che sono fidanzata Cioè Dipende Dai punti di vista Vieni Pinguini Non ti vedi per nulla Possiamo dire di sì Possiamo dire di no Io È un segreto Scrivete nei commenti Secondo voi Chi è la sua crush Anche se effettivamente Non la conoscete O magari sì O magari no O magari no Io non posso dire niente Però Scrivete nei commenti Chi pensate che sia Scrivetemi le vostre domande E mi sa proprio Che ci vediamo A un prossimo video Vero Piri? Sì Ciao raghi Mua Scrivete nei commenti